Ehi Flowey, scarica le PEC e smistale ai destinatari corretti. Flowey, i documenti in uscita sono firmati digitalmente? Flowey, hai protetto le comunicazioni con dati sensibili? Flowey? Flowey è la soluzione DocFlow a cui non devi chiedere nulla. Classifica, smista e metti al sicuro automaticamente le PEC. Grazie all'intelligenza artificiale. Flowey. F-L-O-W-E-E. Scopri di più su Flowey.net Grazie a tutti.